Ilaria Bughignoli e Lucrezia Lodi Allora, questo è un 3-0 maturato in modo probabilmente ingiusto Noi ovviamente oggi eravamo orfani sia di Folli che di Gerardi Voi due siete state l'anima della squadra in attacco, specie su palloni molto brutti Avete ricevuto la sgradita attenzione del muro molto spesso in opzione di Altino 30 punti in due, io lo ripeto, come ho detto anche in Telecronica, secondo me è stata una grandissima prestazione nostra Allora, come ha detto Guido, abbiamo giocato bene, non si può dire il contrario Abbiamo sbagliato dei palloni magari importanti sui finali di set Sicuramente i primi due set sono stati due set molto tirati, punto a punto Per noi è stato molto difficile, come ha detto Guido, perché alla fine attaccava metà della rete nel nostro campo E loro, oltre ad avere certe individualità fisicamente molto alte Sicuramente hanno fatto quella cosa in più per portarsi a casa i primi due set E poi, vabbè, il terzo è stato un po' un rincorrerle Però diciamo che abbiamo messo in campo quello che sappiamo fare e le capacità che abbiamo di aggiustare la partita Anche quando non siamo al completo e in questo caso eravamo molto in difficoltà Perché ovviamente mancavano foglie i Gerardi Però penso che Balzani abbia fatto una buonissima prestazione per il tempo che ha avuto per prepararsi E ovviamente perché non è il suo ruolo